amici di atti sport 24 bentornati nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino si è chiusa ieri la season del campionato di serie 1 femminile noi andiamo oggi in casa della quarta classificata la sisse roma per questo torna a trovarci il difensore del set allenato da marco capanna luna di claudio ciao luna bentrovata è un piacere di averti insieme a noi ciao andrea buongiorno grazie luna una brutta sisse roma penso che poi condividerai il mio giudizio perde 9 8 io ad ostia contro il rapallo pallannuoto chiude la stagione regolare al quarto posto ti chiedo come possiamo valutare la vostra prestazione contro le liguri beh è stata obiettivamente una brutta partita penso forse una delle peggiori che avessimo giocato eravamo completamente scollegate dal punto di vista diciamo palanotistico proprio di squadra e abbiamo avuto proprio un calo sotto tanti punti di vista sia quello fisico sia mentale principalmente eravamo completamente non lo so probabilmente non lo so veramente preso seriamente la partita probabilmente non non saprei però è stato obiettivamente una bruttissima prestazione per il nostro standard sì e ti fa onore la l'oggettività e la grande serenità della tua analisi brutta prestazione che non pregiudica l'approdo ai playoff ma certamente un netto passo indietro rispetto a una squadra che doveva sì continuare a migliorare però dalla coppa italia con il culmine della coppa italia stava dimostrando una fame agonistica certamente diversa partita brutta partita giocata male però nel quarto parziale all'inizio avevate messo nuovamente la testa avanti prima di subire il break decisivo cosa vi è mancato negli ultimi otto minuti beh ti ho detto purtroppo quando comunque già giochi una parte c'è l'approccio è stato sbagliato dal riscaldamento cioè dal minuto zero quindi quando comunque giochi una partita sbagliando così tanto non puoi pensare che al quarto tempo magicamente scatti una tenuta mentale o una concentrazione che non hai avuto nei primi 50 minuti obiettivamente e così è stato cioè noi purtroppo non siamo una squadra di fenomeni non abbiamo ancora quella diciamo quello switch dal facendo male adesso devo fare benissimo e si è visto quindi anche quando riuscivamo a rimettere diciamo avanti il risultato perché in due situazioni siamo andati avanti di punteggio e comunque poi non usciva subito una cosa ci apriamo in difesa scalavamo male facciamo errori dei quali loro hanno approfittato immediatamente e quindi hanno ripreso sempre la partita nonostante in due situazioni fossimo avanti certo avrete sicuramente avuto già un primo confronto con Marco Capanna che tipo di riflessioni avete condiviso con il mister nell'immediato post partita sicuramente noi stiamo cercando di fare un percorso che ci aiuti a sia prendere il buono di quello che facciamo sia analizzare il cattivo di quello che facciamo cioè il negativo perché se no magari uno non si rende conto del positivo anche che fa quando succedono queste cose quindi di positivo sicuramente ci siamo detti che non era scontato per rintrazione playoff per quello che era stata la prima parte di campionato che avevamo avuto che era stata molto sotto tono comunque cioè noi abbiamo perso nove punti fondamentali all'andata perché abbiamo perso il rapallo verso catania quindi fino a due settimane fa eravamo a rischio quinto posto quindi ora sicuramente chiama il quarto non è quello che speravamo non è uno dei migliori risultati però comunque l'accesso e questo è quello che ci ha detto marco sicuramente c'è da lavorare tanto perché sono usciti degli aspetti in questa partita che non si vedevano da tempo proprio per via di quella scia positiva che tu proprio dicevi c'è tra coppa europea buona prestazione coppa italia vinci insomma una serie di scie positive usciti invece tutti gli aspetti veramente brutti poco diciamo poco da noi mettiamola così e quindi con tanta umiltà quello che ci siamo detti è non possiamo permetterci di buttare via quello che è già stato fatto e come abbiamo già fatto in altre occasioni quindi testa bassa a lavorare certo riavvolgiamo il nastro di queste 18 partite facevi accenno alla parte iniziale di torneo nella quale c'è stato anche qualche passo falso di troppo se devi tracciare un bilancio complessivo della vostra regular season che giudizio esprimi no assolutamente positivo non era scontato che comunque una squadra dove fossero cambiati così tanti elementi si trovasse in così poco tempo comunque a prendere e fare un campionato senza il capitano perché comunque noi domitile non l'abbiamo avuto per tutta la fase iniziale del campionato e buono buona figura fondamentale e con tanti innesti perché abbiamo cambiato il portiere abbiamo cambiato sarà cent'anni abbiamo avuto anna gual cioè sono ragazze che si sono assolutamente integrate con la squadra però venivano tutte da dei meccanismi diversi e un conto siamo noi che comunque abbiamo sempre avuto c'è l'idea di gioco di marco un conto magari che arriva da esterno se tu inizi la preparazione i primi di settembre e dopo tre settimane ti trovi prendi a giocare già la fase iniziale di coppa italia non è facile perché ti ci proprio ti buttano con tutte le scarpe dentro l'acqua fondamentalmente quindi siamo state secondo me molto brave abbiamo avuto dei momenti sicuramente dove abbiamo sofferto poi era una squadra più corta ti ripeto infatti non avere domitilla è stato tanto quindi una squadra più corta una squadra nuova che dove ancora trovare i meccanismi con un anno complicato perché poi con il fatto che c'erano ancora in ballo le qualificazioni l'europea il mondiale insomma ci sono stati tanti intervalli due mesi e mezzo ferme dove comunque ci siamo allenati in poche e poi riuscire comunque subito a febbraio ad affare comunque una buona escalation di risultati non è per niente scontato secondo me abbiamo avuto se devo fare un'analisi da settembre ovviamente a ora fino aprile siamo state brave sicuramente è un giudizio positivo certo sicuramente possiamo fare meglio ecco questo è poco ma sicuro però non non dico niente rispetto a quello che abbiamo fatto vi attende ora la serie di semifinale contro l'equip campione d'italia in carica con quale ambizioni la siste si avvicina all'ennesimo atto di questa storia infinita con le stesse ambizioni con cui ci siamo avvicinate ogni partita cioè noi giochiamo ogni partita per vincere non non ci facciamo calcoli non ci facciamo idee non ci facciamo progetti scendiamo nell'acqua per vincere basta facciamo il nostro meglio per quello per il risultato poi quello che sarà sarà a prescindere da chi ci troviamo contro potrà essere catania potrà essere padova se vuoi arrivare alla fine tanto le squadre comunque le incontri quindi un primo dopo realmente cambia poco va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio luna di claudio per essere intervenuta do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao luna grazie mille grazie a te